A forza di fare proclami ci si è dimenticati la normalità del vivere. L'amministrazione è così focalizzata sugli incontri in giro per l'Italia che ha dimenticato che questa rimane una grande città fatta di persone che vogliono servizi normali senza dover invidiare il resto del mondo. Il Parco Urbano di Montelungo rappresenta una delle grandi scommesse di questa città. È il pensiero del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Il Parco Urbano di Montelungo, dicono i pentastellati, è un luogo ordinario con un potere straordinario. Un posto che in una città normale sarebbe centro di incontri ma che gela è utile a fare proclami senza realizzare progetti concreti. Anche l'amministrazione messinese, rincarano i grillini, non si smentisce, priva com'è di quel minimo di progettualità che dovrebbe contraddistinguere l'agire amministrativo. La Giunta non ha pensato in alcun modo a rendere vivibile il Parco e la città che gli vive a ridosso. Unica soluzione della Giunta è un'ordinanza che vieta di frequentare l'area del Parco perché ci sono i cani randaggi, in pratica un segnale di resa. Anziché trovare una soluzione, meglio lasciare l'aria nel degrado. Noi, dice il Movimento 5 Stelle, non ci siamo dimenticati della battaglia fatta dalle associazioni e dai cittadini. Noi vogliamo che quelle battaglie diventino atti concreti, vogliamo che il Parco diventi fruibile alla città con atti amministrativi seri e duraturi. A partire da un regolamento che ne disciplini l'utilizzo e da un progetto amministrativo che ne preveda lo sviluppo nel rispetto del regolamento. Per questo, di fronte all'assilenzio dell'amministrazione, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione che ha la finalità di impegnare il Sindaco a recuperare il Parco e il Consiglio Comunale ad approvare un regolamento per disciplinarne l'uso. La strada da seguire è quella del lavoro per la città, un lavoro diversificato che non sia solo mirato a parlare di industria, ma che consideri Gela, continuano i grillini, una città del mondo che del mondo vuole i normali diritti del vivere civile.